Buongiorno, bentrovati. Lunedì 3 aprile 2017, oggi è San Riccardo, apriamo la nostra consueta rassegna stampa, mattino 6, il primo appuntamento della settimana con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo dal centro, dalle quattro edizioni del quotidiano d'Abruzzo, partiamo da quella di Pescara, il titolo principale, eccolo qui, riguarda una tragedia accaduta ai Caraibi, pensionato, impiccato ai Caraibi, ex professore di Chieti, viveva da anni a Santo Domingo, giallo sulla sua fine. Poi le altre notizie di cronaca, a Moscufo si ustiona mentre dà fuoco alle sterpaglie gravi le condizioni di un 59enne. Poi Farindola, magistrati in volo sui resti di Rigopiano, prosegue l'inchiesta della Procura della Repubblica di Pescara per far luce sulla valanga che lo scorso 18 gennaio, ricordiamo, provocò la morte di 29 persone. Poi in basso, Pescara sul lungomare, la fiera dei falsi, riviera invasa, sospiri denuncia, i vigili non intervengono. E poi Montesilvano, i titolari degli alberghi dicono basta migranti negli hotel. E poi lo sport a centro pagina, la consuetta foto del lunedì che riguarda in questo caso il Pescara con Zeman che imbriglia il Milan. Pescara in vantaggio con un clamoroso autogol di Epaletta dopo un liscio delle portiere Donnarumma. E poi la replica nel finale di primo tempo. Finisce uno a uno il tecnico del Pescara, dice credo nella salvezza. E poi di spalla vedete questo titolo, la riforma senza forestale, che cosa cambia in Abruzzo? Perché c'è stata la riforma che ha di fatto cancellato il corpo forestale dello Stato. Oggi ci sono i carabinieri forestali e vedremo all'interno del giornale cosa cambia per la nostra regione. Poi in alto altre due notizie che riguardano la politica, primarie democratiche, circoli PD, plebiscito per Renzi in Abruzzo, il 63% ha votato per l'ex premier. E poi di fondazione comunista, Maurizio Acerbo, eletto segretario nazionale. Lasciamo la prima pagina di Pescara, siamo a quella di Chieti, ritroviamo il titolo di questo pensionato morto a Santo Domingo. E poi vediamo gli altri titoli, Vasto, Autoriete per svaliggiare due negozi, ad Ortona in Centinaio per l'addio al giovane Alfino. E poi vedete in basso invece in questo caso il richiamo di sport che riguarda il basket, Proger Chieti, salvezza più lontana, al Palatricale, passa Verona, un'impresa, ora evitare i play-out. Proseguiamo, prima pagina del centro di Teramo, scardinano il postmat, colpo a vuoto, è caduto a Bellante l'altra notte, poi verso il congresso, PD a Montorio, al Vomano, voto negato a 60. Tesserati e poi in basso, per messi facili ai brasiliani, indagati quattro dipendenti comunali di Pineto. E poi il basket, il roseto parte male, a Iesi arriva il Capò. Dunque dopo la Proger perde anche il roseto in terra marchigiana. Prima pagina del centro, edizione dell'Aquila e vedete dopo il titolo che ritroviamo su tutte e quattro le edizioni e sulla scomparsa di questo pensionato teatino ai Caraibi. La fotonotizia riguarda l'Aquila Calcio che trionfa nel derby. I rosso-blu passano ad Avezzano per 2-0. Il presidente Paris, presidente dell'Avezzano, caccia tutti. Tensione tra tifosi, un ferito e poi in basso il bimillenario di Ovidio, l'omaggio di Costanza, delegazione romena a Sulmona per aprire le celebrazioni. Poi centrodestra, vertice a Roma per l'ok a Bergamotto, si parla in questo caso di politica. Vediamo altri titoli che arrivano dalle cronache. L'Aquila denuncia al PM, crolli indagate sui politici. Poi invece ad Avezzano il comune taglia la tassa sui rifiuti. Siamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano Il Messaggero. Operaio cade a nega nella cisterna del cantiere Teramo. L'uomo aveva 66 anni e l'allarme è lanciato dalla moglie perché non era tornato a pranzo. Poi vediamo altre notizie. Villa Santa Maria, schianto in bici, grave bambino. E poi la fotonotizia, in questo caso come per il centro riguarda lo sport. Il Pescara fa paura ad un brutto diavolo. Pareggio e tanti rimpianti con il Milan. E poi in alto vedete altre notizie. Il Dono, un kit tessuto a Campotosto per Carlo d'Inghilterra. Poi Pescara, l'impasto infinito. Lola Berardi punta al posto dell'assessore Di Pietro. E poi l'Aquila, Trifoggi, candidato e ufficiale Palumbo al suo posto in giunta. Di spalla questo articolo il caso Mariana come terapia. Il musicista rischia ancora. Possiamo lasciare dunque le prime pagine dei quotidiani, dei quotidiani abruzzesi oggi in edicola. Per andare a vedere come facciamo ogni giorno nel corso di mattino 6. Andare a vedere i titoli dei quotidiani nazionali invece che sono oggi nelle edicole. Partiamo dal Corriere della Sera. Nord Corea, lo stop di Trump. Agiremo da soli se la Cina non ferma le minacce nucleari di Pyongyang, dice il presidente Trump. E poi vedete la foto, la visita ieri di Carlo d'Inghilterra nelle zone terremotato. L'impegno di Carlo fra le macerie. Poi più in basso nel PD Renzi stacca Orlando. Emiliano c'è sfida sui votanti. E poi Repubblica. PD nei circoli vince Renzi ma sui voti elite. Poi Barista ucciso per rapino. Un killer senza pietà. Caccia all'uomo in Emilia. Il sindaco non si può vivere, dice, nella paura. E poi vedete questa foto, a Teheran in bici contro i pregiudizi. Siamo al messaggero, legittima difesa, ora si cambi. Bologna, Barista reagisce al rapinatore che lo uccide, fugge, caccia al killer in tutta Italia. Poi Trump alla Cina, Corea del Nord, se non intervenite voi. Ci penso io. E poi PD, Varrenzi, primo round. Orlando doppiato, c'è Emiliano libero. I criminali vincono ancora. Rapinatore uccide un barista vicino Bologna. Siamo alla stampa, tasse locali, boschi, gel ai comuni. Il governo non vi deve dare nulla. Primaria e PD. Poi con Renzi il 70% degli iscritti. Un terzo però non ha votato. Siamo al tempo di Roma. Uffici affitti della regione. I conti non tornano più. Si parla di un'inchiesta che riguarda la regione Lazio. Andiamo ancora avanti. Il gazzettino di Venezia. In alto questa notizia drammatica che abbiamo trovato anche sugli altri quotidiani. Questo barista che si difende, che viene ucciso dal bandito e caccia questo killer. Caccia in tutta Italia da parte delle forze dell'ordine. Poi a centro pagina la politica. PD. Renzi vince il primo round e doppia Orlando. Siamo al giornale. Emergenza rapine far west di Stato. La politica non garantisce la legittima difesa, scrive il giornale. Intanto un altro commerciante viene ammazzato da un delinquente. Siamo al mattino di Napoli. Iguain e la Juve. Ma chi li ha visti? Si parla ovviamente del match giocato ieri sera al San Paolo con il pareggio per 1-1 tra Napoli e Juventus. Impalpabile la prestazione dell'atteso ex Iguain. E poi a centro pagina barista ucciso davanti alla moglie. Bologna tentava di opporsi al rapina. Gazzetta del Mezzogiorno. Renzi stacca tutti i circoli. Sfiora il 70%. Orlando denuncia anomalie. La Boschi dice niente brogli. Emiliano oltre il 5%. Pass per le primarie in Puglia alla pari con l'ex premier. Secolo XIX. Il quotidiano Ligure. PD. La Liguria è renziana. Orlando al 40%. Secolo XIX. L'ultimo quotidiano che abbiamo preso oggi in esame per quanto concerne la rassegna stampa nazionale. Possiamo tornare, lo faremo tra qualche istante, alle pagine del centro. Poi del messaggero per andare a vedere gli argomenti, gli articoli che si trovano all'interno del giornale. Poi come ogni lunedì, ormai lo sapete, parleremo in maniera molto dettagliata nella seconda parte. Seconda parte di Mattino 6 che sarà interamente dedicata allo sport. Vedremo il servizio relativo al pareggio di ieri allo stadio adriatico tra Pescara e Milan. Poi parleremo e vedremo anche i servizi delle partite, delle formazioni abruzzesi di serie D. Ma andiamo per ordine, torniamo al centro, le pagine interne. Si parla dell'abolizione, della cancellazione del corpo forestale dello Stato. Addio al corpo forestale. Cosa cambia in Abruzzo? Carabinieri in verde. In 8 mila hanno infatti cominciato a indossare le divise dell'arma. In regione 500, in 50 passeranno invece a polizia, vigili del fuoco, finanza e protezione civile. E poi le indagini simbolo del corpo forestale, dai veleni di bussi ai macelli, clandestini. E poi un risparmio di 100 milioni in tre anni diminuiscono i costi di gestione. Cambia l'organizzazione del lavoro e cresce l'efficienza. E poi parla il comandante regionale Ciro Lungo che dice un'importante sinergia, grande impegno nelle emergenze. E poi in basso la rivista storica arricchisce i contenuti. Andiamo avanti, queste sono le pagine nazionali dove si parla della vittoria di Renzi nei circoli PD dopo le votazioni. Si parla anche della rapina vicino Bologna con il barista ucciso. E poi ritroviamo un titolo che riguarda anche la nostra regione perché Maurizio Acerbo è stato eletto segretario nazionale del partito della rifondazione comunista. Dice Acerbo il nostro obiettivo è riunire la sinistra. Andiamo avanti, siamo arrivati alle pagine della cronaca regionale e poi delle cronache provinciali. Partiamo dalla pagina d'Abruzzo. Corte dei conti, gruppi regionali, irregolarità nelle spese di Forza Italia e il nuovo centro-destra, rilievi su consulenze, affitti senza giustificativi, manifesti. Gli azzurri hanno già restituito i 12 mila euro contestati. E poi garante dei detenuti, la nomina, torna in consiglio regionale. E poi sviluppo Italia-Abruzzo senza stipendio da un anno. Ora scatta il licenziamento. In basso Save the Children, in Abruzzo pochi nidi e menze, il rapporto dell'associazione Una scuola su quattro, senza internet veloce. E a proposito di questo argomento possiamo andare a vedere, lo faremo tra qualche istante, un interessante articolo che ritroviamo oggi sul Corriere della Sera, proprio su questa ricerca di Save the Children che riguarda proprio l'infanzia, i ragazzi di oggi e anche i bambini delle zone terremotate della nostra regione. Vediamo se possiamo inquadrare questo articolo, bambini sul filo. Eccolo qui, questo articolo curato sul Corriere della Sera, dunque nella pagina Eventi Nazionale del Quotidiano milanese dal giornalista abruzzese Nicola Catenaro. Bambini sul filo, in provincia dell'Aquila, il sisma ha peggiorato anche le scuole, ma a Sassa c'è una nuova agora. Vediamo in alto l'iniziativa, riparte la campagna, illuminiamo il futuro con cui Save the Children invita azioni concrete contro la povertà educativa. Siamo andati a visitare uno dei tanti punti luce, quello che in Abruzzo ha restituito normalità ai più piccoli. E dunque questo articolo con numeri e cifre che riguarda l'indagine di Save the Children è anche la situazione che vivono i bambini nella nostra regione. Torniamo al quotidiano Il Centro, stavamo leggendo le pagine della cronaca regionale. Abbiamo visto in basso proprio l'inchiesta di Save the Children con pochi nidi e menze nella nostra regione. Poi abbiamo visto anche la pagina intera che su questo argomento dedica oggi il Corriere della Sera con l'articolo di Nicola Catenaro. Siamo alle pagine provinciali del centro, partiamo da Pescara, PM in volo su Rigopiano. Dunque i magistrati hanno effettuato una ricognizione aerea proprio nella zona dove lo scorso 18 gennaio ci fu questa tragedia, questa valanga che causò 29 morti. Ecco la distruzione causata dalla valanga, le foto scattate dall'elicottero, l'hotel senza più neve, il geologo consulente della procura ricostruisce la dinamica. E poi la via impraticabile, la strada Rigopiano Castelli sommersa dagli alberi. Andiamo avanti, siamo sempre a Pescara, dalle pagine del centro, la riviera abusiva, Bancarella in fila con le griff false, gli ultimi blitz di finanza e polizia non frenano il commercio. C'è la denuncia del consigliere regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri. E poi sabato scorso c'era stata la conferenza stampa di saluto di Enzo Del Vecchio, ormai ex vice sindaco di Pescara, passato capo della segreteria del governatore della regione Luciano D'Alfonso. Un bilancio che secondo il centrodestra, come leggiamo in questo articolo in grigio di spalla, è stato un fallimento. E poi ospedale, appello del PD alla regione, la richiesta di Moreno Di Pietrantonio, segretario del PD cittadino. Pescara, dice Di Pietrantonio, ha i requisiti per la qualifica di DEA di secondo livello. E poi code a Porta Nuova, traffico in tilt per Pescara-Millan, ma ovviamente era ampiamente prevedibile, considerando che ieri sugli spalti c'erano oltre 20.000 persone. E poi ancora cronaca di Pescara, Colle del Telegrafo, aperto prima di Pasqua, il vice sindaco Blasioli visita il sito dopo i lavori di sistemazione della strada. Rilanciamo la tradizione del lunedì dell'angelo sulla terrazza della città, dice Blasioli. E a proposito di città, siamo sempre a Pescara, questa sera chiuderà fino a domani via del circuito, dunque una delle strade più importanti di Pescara, che tra l'altro conduce all'ospedale civile. Ci saranno dei disagi, speriamo contenuti, per gli automobilisti e per i cittadini. E poi, a sta deserta, siamo a centro pagina, ora la provincia fa gli sconti, pubblicato il secondo avviso, per la vendita del patrimonio immobiliare, i valori ridotti del 10%. E poi in basso, Nuova Pescara, Civitarese, lancia la città metropolitana, oggi il convegno sul sistema delle autonomie. E la cronaca, brucia l'ester paglia e sustiona è grave, ferito un imprenditore a Moscufo, investito dal ritorno di fiamma dopo aver usato benzina, ora è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile. E poi, cambiando argomento, spoltore, il convento si illumina in blu per la giornata mondiale dell'autismo, quella che c'è stata ieri con tante iniziative nella nostra regione. Poi Montesilvano, gli albergatori, basta migranti negli hotel. E poi a città Sant'Angelo, il comune cerca agricoltori in basso, il dibattito contro i tagli. Il piccolo comune in provincia di Pescara, di Salle, rilancia la fusione dei piccoli comuni. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Chieti del centro, giallo nella Repubblica Dominicana, pensionato trovato impiccato ai Caraibi. Quindi, Fernando Ranni, 72 anni di Chieti, era legato alla maniglia della porta del residence in cui viveva, doveva tornare in Italia giovedì. E poi in basso si parla dell'Università di Chieti Pescara. Trinchese, direttore di lettere, chiede di soprassedere ad una nomina che potrebbe sembrare forzata. Dice Trinchese, troppa fretta per il vicario del direttore generale. Siamo alla pagina dell'Aquila del centro, il caso giudiziario, nuova pista, crolli, indagate anche sui politici, denuncia in procura, ignorato dai vertici degli enti. Un dossier che nel 2006 parlava di 137 edifici pubblici insicuri. E poi, ancora chiusa la strada per il santuario della Ienca. Mentre, per quanto riguarda il sindaco Massimo Cialente, oggi il primo cittadino sarà davanti al giudice. PM contesta pressioni in debite per affidare lavori a una ditta. La difesa, capi di imputazione estemporanei. E poi, a proposito di politica, di elezioni amministrative, in questo caso, però, dunque, non di cronaca giudiziaria, centrodestra si va verso l'ok a Bergamotto. L'Aquila vertice sulla sua candidatura. Oggi la conferenza stampa, invece di Trifoggi, dell'ex vice sindaco, ex PM di Pescara, e di Biondi, candidato del centrodestra. Dunque, tanti candidati pronti a sfidarsi per l'elezione al nuovo sindaco dell'Aquila. Siamo a Teramo. Tragedia a Isola del Gran Sasso. Cade e annega nel serbatoio dell'Acqua. Vittima, un pensionato di 66 anni del posto, sfollato dopo il sisma e scivolato nel tentativo di raccogliere un attrezzo. E poi, abbellante, assalto al bancomat delle poste. I malviventi agganciano il forziere con un furgone, ma non riescono a portare via i 20 mila euro. E poi, permessi facili a brasiliani quattro indagati. Si tratta di dipendenti comunali e vigili urbani. Nei prossimi giorni saranno ascoltati. Pineto, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Siamo arrivati alle pagine della cultura. Direi però di vedere questo titolo, che riguarda proprio la nostra regione, perché sono in atto già le celebrazioni per il bimillenario di Ovidio, della nascita di Ovidio, che unisce Sulmona e Costanza. La delegazione romena apre l'anno dedicato al poeta sulmonese. Oggi si terrà il convegno internazionale. E a proposito di Ovidio e di Sulmona e di queste celebrazioni per il bimillenario, il 6 aprile a Sulmona, e dunque giovedì prossimo, ci sarà il Presidente della Repubblica, Mattarella, in visita proprio nella città Peligna. Lasciamo allora le pagine del centro e passiamo al messaggero, anche in questo caso, per andare a vedere le pagine delle cronache provinciali. Poi ci fermeremo per qualche istante per andare a vedere insieme le previsioni del tempo. E poi, come anticipato in precedenza, ci concentreremo nella seconda parte interamente sullo sport, partendo dal servizio relativo a Pescara-Milan. Questo pareggio, per certi versi, inatteso, maturato ieri all'Adriatico. Ma andiamo per ordine, ripartiamo dal messaggero, la pagina di Pescara. Il primo titolo riguarda la politica, perché si parla di nuovo rimpasto in casa della Giunta Alessandrini. La Berardi, candidata contro Pagnanelli, PD in mezzo al guado. Dunque, la presidenza del Consiglio Comunale divide la maggioranza. Le civiche chiedono due assessorati di Pietro. Rischia di uscire. E poi, Febbo replica Ciofani, no a manovre contro Chieti. Si parla della guerra dell'ospedale, scusate, del nuovo ospedale che dovrebbe sorgere, di un nuovo ospedale che dovrebbe unire i due centri. Ma chissà se questo accadrà mai. E poi, un tratto di via del circuito chiuso per 24 ore da questa sera, il cantiere per l'asfalto da rifare. Dunque, ci sarà la chiusura per una giornata intera della strada, l'importante arteria di via del circuito. E poi, rifondazione comunista, la scalata di Acerbo, il pescarese, eletto nuovo segretario nazionale. Dunque, auguri a Maurizio Acerbo per questo importante traguardo e per questa sicuramente prestigiosa presidenza nazionale del partito. E poi, si parla di, in basso, di cronaca, brucia a sterpagli e si dà fuoco, gravissimo un agricoltore. L'abbiamo visto anche dal centro, è accaduto a Moscufo. E poi, Sport, Optimist in regata alla Marina, il trofeo Kinder a Nuccorini. Vi avevamo parlato di questa manifestazione anche con un servizio nei nostri Tg. Siamo all'Aquila. Trifoggi stamane si dimette. Di Stefano farà il vice sindaco. Si parla di amministrative nel capoluogo di regione. La mossa dell'ex magistrato per candidarsi a primo cittadino fa scattare un mini rimpasto. Dunque, Trifoggi, che è stato procuratore della Repubblica a Pescara, si candida ufficialmente. Ovviamente per questo è costretto a dimettersi da vice sindaco. In giunta entra il capogruppo del PD Palumbo con alcune deleghe pesanti. E poi, i tre in corsa, borciati in comunicazione. Si parla sempre delle primarie in questo articolo di spalla del messaggero. Poi, invece, sulla vicenda del Liceo Cotugno dell'Aquila, una lettera aperta fuori dal coro del docente Vivio, che dice e parla di caccia alle streghe. In basso, tragedia dell'elicottero, strada chiusa per recuperare gli ultimi reperti. Ricorderete quanto avvenne a Campo Felice lo scorso 24 gennaio con questo elicottero, che precipitò proprio l'elicottero del 118, che precipitò in una zona impervia, innevata di Campo Felice. Doveva recuperare uno sciatore rimasto ferito. E poi, al nuovo basket aquilano, siamo allo sport, tre titoli regionali su quattro. Andiamo avanti. Pagina di Avezzano Sulmona. Parla il sindaco di Avezzano di Pangrazio, che dice, Abbasso le tasse, battaglia preelettorale dentro e fuori il palazzo di città dopo il Consiglio Comunale. Venditti dice così, chiudi i negozi. De Angelis e i suoi contestano l'apertura del nuovo maxicentro commerciale, soltanto due dell'opposizione sugli scranni. E poi, menze scolastiche, niente gara europea, siamo a Sulmona. In basso, ancora da Avezzano, via del Pioppo si sblocca, ora si può costruire. E poi, Sulmona, Ovidio, le celebrazioni per il bimillenario accolta ieri, la delegazione romena arrivata in città. Siamo alle pagina di Chieti, del messaggero, casa dello studente, progetto pronto per i 120 alloggi nella Pierantoni. E poi, palloncini bianchi in cielo per l'addio ad Alfino Junior, questo giovane imprenditore scomparso all'età di 34 anni. E poi, vasto, i ladri bruciano l'auto della fuga dopo il furto bis. E a Lanciano voleva il comando dell'azienda di famiglia e prende i parenti a botte. Chiesto il giudizio per quest'uomo in basso. Schianto in ebici contro un muro, bambino di 11 anni, ferito, a Villa Santa Maria. E siamo alla pagina di Teramo. Ancora la cronaca, operaio muore a 66 anni annegando nella cisterna. Giuseppe Scardelletti è la vittima. L'allarme è lanciato dalla moglie e non era tornato per pranzare a casa. Fatali lavori a Isola del Gran Sasso. Poi Bellante, preso Bancomat, la cassaforte Regge. Poi PD, vince la mozione Renzi. Polemica, Filipponi, sindaco. Siamo a Giulianova e sempre a Giulianova. Il loro uscello di via 24 maggio finisce su Canale 5 in basso. Ricostruzione lenta, le piccole frazioni non ripartono. Enea Di Giovanni, vice sindaco di Valle Castellana, dice Credo che faremo la fine dell'Irpinia, dice l'amministratore del piccolo centro in provincia di Teramo. Siamo così arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport. Dunque possiamo fermarci per qualche attimo. Poi torneremo come sempre in studio per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo in studio per la seconda parte di Mattino 6, interamente dedicata allo sport. Però facciamo un piccolo passo indietro per una correzione su quanto detto in precedenza, proprio per le celebrazioni del bimilenario di Ovidio, perché avevo erroneamente detto bimilenario dalla nascita, invece è il bimilenario dalla morte del poeta sulmonese. E tra l'altro vi anticipo che saremo presenti proprio nella giornata di giovedì a Sulmona con una nostra troupe per seguire in diretta anche la visita del Capo dello Stato nella città ovidiana. Ora possiamo davvero passare allo sport. Dunque prima di vedere i servizi e di dare spazio alle immagini per quanto concerne le partite delle formazioni abruzzesi, andiamo a vedere i titoli dei principali, dei tre quotidiani sportivi. Oggi in edicola partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Pari e abbracci, più Napoli che Juve al San Paolo, uno a uno. E poi in alto vedete il titolo dedicato alla partita Pescara-Milan. Milan stop con Liscio, Gigio diventa Paperumma. E una roba da Fumetti con il Pescara errore del portiere, protagonista del prossimo Topolino. Pasalic rimedia ma resta uno a uno. E poi Atalanta-Boom, Manita-Gasp, Tris del Papu Gomez, Genoa-Caos e poi Inter a te con Perisic e San Siro. Questa sera in 45.000 per la sfida con la Sampdoria. E siamo al Corriere dello Sport. Applausi. La grande sfida finisce in parità. Parliamo di Napoli-Juventus e senza polemiche. Decidono chi dire a Jamsic. In uno stadio tutto esaurito. In alto il Milan si blocca. Inter c'è la Sampdoria. Infine tutto sport. Più fischi che fiaschi. Napoli-Juventus 1-1. E poi Super-Belotti punta Capitan-Valentino. Pareggio del Torino in rimonta. Il Gallo, parliamo di Belotti, è a meno 6 da Mazzola. Mijailovic svolta tattica. E siamo dunque alle pagine dei quotidiani abruzzesi. Per quanto riguarda lo sport possiamo partire dal quotidiano il centro. Orgoglio-Pescara ha bloccato il Milan. Questo è il titolo della prima pagina di Sport. Andiamo a vedere le pagine relative proprio alla gara dello stadio di Riatico. Il Pescara che non ti aspetti. Il Delfino gioca da squadra. Difende bene e mette in mostra la sorpresa a Coulibaly. Sabato a Empoli. Ultima chance per la salvezza. Orgoglio e regali. Zeman ferma il Milan. E poi il personaggio, Coulibaly, dal barcone agli applausi. Il mio sogno, dice Coulibaly, è diventato realtà. Coulibaly che abbiamo ascoltato anche ieri in diretta nei nostri collegamenti. Dallo stadio Adriatico al 91esimo di Pescara. Milan. E poi i protagonisti. L'allenatore sorride e coccola. Coulibaly felice per la prestazione. Il ragazzo segue i miei consigli. La salvezza? Io ci credo. Zeman non va fuori gioco. E poi il gol di Benali regolare. Grossi dubbi sull'annullamento della rete del giocatore pescarese. E poi in basso, record d'incasso. In tribuna l'ex politano. Quasi 300 mila euro dal botteghino. Mezzo stadio è rossonero. E Galliani. Firma autografi. E poi lacrime di Lapadula. Un ritorno da brividi. Non vi dimenticherò. Abbiamo portato anche ieri ai nostri microfoni l'ex attaccante di Teramo e Pescara. E poi il presidente Sebastiani. Bella gara sabato a Empoli. Ci giochiamo il futuro. Sabato prossimo il Pescara giocherà l'anticipo allo stadio Castellani alle ore 15. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto ieri allo stadio Adriatico nel servizio che segue. Un Pescara a cuore d'orgoglio ferma il Milan sul risultato di 1-1. Regala finalmente una domenica con tanti sorrisi ai suoi tifosi. Il pareggio serve a poco per la classifica ma la squadra biancazzurra si chiedeva di dimostrare di essere ancora viva. E la risposta che tutti si aspettavano è puntualmente arrivata. Si fa invece dura per il Milan in Europa. Il pareggio dell'Adriatico potrebbe costare davvero caro l'undici del presidente Berlusconi. Per la squadra lombarda è un mezzo passo falso che potrebbe lasciare il segno visto che Atalanta e Lazio continuano ad allungare in classifica. Solo a tratti i rossoneri sono riusciti a far vedere delle cose buone e soprattutto con il grande ex Gianluca Lapadula in campo quando però la squadra aveva già speso tanto. Complimenti vivi invece al Pescara che ha giocato una gara di dignità ed orgoglio come chiedeva Zdenek Zeman che ha avuto il merito di cambiare diversi componenti della squadra titolare mandando in campo anche Fiorillo per la prima volta in stagione e Campagnaro alla sua prima gara nel girone di ritorno. Rossoneri in campo con il 4-3-3, giovane e vigoroso senza neanche suso oltre ai noti lungo De Genti. Montella in difesa, poi preferisce Calabria-De Sciglio. Solo panchina per l'atteso ex Lapadula che avrà spazio nella ripresa. Nel Pescara Zeman getta nella mischia Cullibali ma soprattutto fra i pali come detto il portiere Vincenzo Fiorillo. Si comincia in uno stadio adriatico stracolmo con quasi 21.000 spettatori. I rossoneri in avvio cercano subito di imporre il loro gioco. Alla terzo bacca servito in area tutto solo conclude di potenza mettendo però a lato. Il Pescara con la velocità di Caprari e Benali cerca di mettere in difficoltà la più quotata formazione avversaria. Allo dodicesimo pallone indietro scriteriato di paletta per Donnarumma che cicca clamorosamente il pallone che si infila beffardamente in rete. Esplode la gioia dei tifosi bianca-azzurri sulle tribune che quasi non credono ai loro occhi mentre in panchina resta letteralmente impietrito Vincenzo Montella. La reazione del Milan è rabbiosa ma soprattutto confusa. I rossoneri fanno tanto possesso palla con Ile Pescara che soffre ma che al 29esimo con un tiro a cross di Memushai chiama Donnarumma ad una respinta con i pugni e con Baybec in agguato. Montella sprona i suoi dalla panchina ma il diavolo avanza a marce ridotte con Fiorillo quasi mai impegnato. Al 37esimo si vede in area bianca-azzurra Ocampos e spizzica di testa il pallone che finisce al lato di un soffio. Il finale di tempo vede però al 40esimo il pareggio del Milan dopo un'azione di contropiede avviata da Delofeu e conclusa in maniera vincente da Pasavic al volo dopo la respinta miracolosa del portiere bianca-azzurro Fiorillo proprio su Delofeu. Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 di inizio gara. All'undicesimo fiammata di Sosa che dai 25 metri colpisce la parte superiore della traversa. Al tredicesimo arriva il momento di Lapadula nello stadio che lo consacrò lo scorso anno con 30 gol in Serie B capo cannoniere del torneo cadetto. Al quattordicesimo il Pescara va però ad un passo dal 2-1 con Bovo che su punizione manca di un soffio il bersaglio grosso. Al sedicesimo annullato un gol agli abruzzesi con Ben Ali pizzicato in fuorigioco, decisione che lascia più di qualche dubbio. La gara resta equilibrata con batti e ribatti e portieri inoperosi fino al ventinovesimo quando ancora lo scatenato Ben Ali chiama Donnarumma al salvataggio in calcio d'angolo. Al trentacinquesimo ecco Lapadula che arriva ad un soffio dal gol dell'ex con Fiorillo che gli dice no con i piedi. Il Milan stringe letteralmente da sedio l'aria bianca-azzura e al quarantesimo il Romagnoli di testa a mancare il 2-1 colpendo in pieno il palo. La gara non conosce soste con Ben Ali che anche lui di testa va a sfiorare il 2-1. Si arriva così al recupero con Kucca che al quarantacinquesimo mette incredibilmente a lato e nel recupero è poi Campagnaro in scivolata a dire ancora no al suo ex compagno di squadra Gianluca Lapadula che al termine della partita va a salutare i tifosi bianca-azzurri. Trenta gol è una stagione memorabile, non si possono dimenticare. E questo è il servizio ampio sulla partita giocata ieri allo stadio triatico. Vediamo anche i voti dei bianca-azzurri dal quotidiano Il Centro. 6 e mezzo Fiorillo, 6 e mezzo Zampano, 6 e mezzo Bovo, 6 Campagnaro, 6 Biraghi, 6 e mezzo Kulibali, 5 e mezzo Muntari, 6 Memusciai, 7 Ben Ali, 5 e mezzo Baybec, 5 e mezzo Caprari, 6 Bruno, 5 per Alberto Cerri. Non giudicabile Milicevic che ha giocato solo pochi minuti di gara. Andiamo ancora avanti e siamo però arrivati alle pagine della Lega Pro e della Serie D. Dunque possiamo andare a vedere invece dalle pagine del messaggero quali sono i titoli e i commenti sul pareggio dello stadio triatico. Pescara pari e rimpianti, in basso parla Ben Ali, migliore in campo probabilmente con Fiorillo e Campagnaro, un punto che ci fa sperare ancora. E poi Kulibali, una giornata che ricorderò per sempre. Stavolta siamo stati squadra, dice Zeman, e poi la Padula, un ritorno fra lacrime e applausi. Sebastiani dà la Cina opportunità interessanti, dice il Presidente, che il prossimo 17 aprile partirà per il paese asiatico. E poi la salvezza, intanto proviamo a vincere ad Empoli. E siamo alla pagina della Lega Pro, Teramo, speranza di salvezza diretta. L'autore del gol decisivo contro la San Benedettese apre uno scenario meno critico. E dunque si spera in casa Biancorossa di riuscire a timbrare la salvezza senza passare per i play-out. E a proposito di Teramo, vi ricordo che mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale con i Biancorossi impegnati alle 20.30 ad Ancona. Contro il fanalino di coda del torneo. E poi, qui sul messaggero troviamo, poi ne parleremo in maniera più ampia, alcuni articoli che riguardano altri sport. Il basket di Serie B per Amatori, Teramo e Campli, Tris di vittoria, sconfitte di misura in trasferta per Giulianove d'Ortona. Poi il volley di Serie A2 maschile, Sieco pur salvezza giocata da campioni. E poi, palla a nuoto in basso, Pescara vince un derby teso con il club acquatico. Passiamo alla Serie D ed apriamo ovviamente con il derby tra Avezzano e L'Aquila. L'Aquila si prende il derby, ribaltone Paris, esonerato il DS De Angelis. Il patron ha tonato anche contro il tecnico Tortora che ha detto non mi dimetto, l'obiettivo era la salvezza. E poi Battistini, tecnico aquilano sull'altra sponda, felice di questo bel successo, ha funzionato, ha detto il tecnico aquilano, il patto d'onore. Andiamo a vedere anche dalle pagine del centro quali sono i commenti su questo derby. Derby davvero molto caldo, soprattutto con le dichiarazioni del 91esimo. L'Aquila fa festa ad Avezzano e poi alta tensione fra tifosi, giovane rosso-bru nei guai, marsicano ferito da una bottigliata. E poi Furia Paris, licenze a tutti, vedete in alto nell'altra pagina, via Tortora. Ed il suo staff, invece Battistini, sulla sponda aquilana, dice punteremo ai play-off. Ma andiamo a vedere che cosa è accaduto ieri allo stadio dei Marsi, dove l'Aquila si è imposta per 2-0 sui biancoverdi, nel servizio curato da Roberta Di Sante. 90 minuti di gara combattuta ma non spettacolare, al termine dei quali un'aquila cinica e più propositiva riesce ad espugnare il De Marsi, a far suo un derby tatticamente bloccato contro un Avezzano meno in palla del solito, il tutto condito da fischi e dichiarazioni al veleno nel post-gara. Un derby atteso per 23 lunghi anni nella Marsica, l'ultima volta si giocò il 16 gennaio 1994, il che richiama allo stadio il pubblico delle grandi occasioni, nonostante alcune frange del tipo organizzato, disertino per via delle incomprensioni con le rispettive società. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi il 4-3-3, assenze pesanti da ambe due le parti, Tortora che deve fare a meno degli infortunati Serrago e Tabacco e degli squalificati Di Paolo e Bittaglie, schiera al centro della difesa Menna e Tariuc a centrocampo, spazio allo Pinto e Deramo dal primo minuto, mentre in avanti il tridente composto da Pollino, Padovani e Leto. Battistini che deve fare a meno di Pepe, Mallu, Sarbolede e dello squalificato Gagliardini, molto giovane con Pupeschi riferimento difensivo, Capitan Minincleri a dettare i tempi e il tridente composto da Valenti, Noman e Dictevicius. Ad aprire le danze all'undicesimo è la formazione ospite con una girata di Valenti che dà solo l'illusione del gol sul capovolgimento di fronte. Lavezzano prova di testa ma Farroni va in presa sicura. Sembra però aver approcciato meglio la formazione rosso-blu la partita che al sedicesimo sblocca il risultato. Valenti se ne va sulla destra, vince un rimpallo e centra il palo alla sinistra di Lewandowski ma sulla respinta. Il più veloce è Dictevicius a ribadire in rete per il vantaggio aquilano. La reazione dei padroni di casa sta tutta in un diagonale di Leto che al ventiquattresimo si stampa sul palo per poi terminare la sua corsa tra le braccia di Farroni. Non riesce ad imbastire una reazione importante la squadra di casa che fatica a creare gioco e occasioni anche per il pressing alto dei ragazzi di Battistini. Nel finale di primo tempo si accendono gli animi in campo e sugli spalti per via di un fallo sul Leto che rimane a terra e viene strattonato. Parapiglie in campo e droviglio di uomini intorno al direttore di gara Feliciani che ammonisce il portiera bezanese di Girolamo dalla panchina per proteste per poi mandare tutti negli spogliatoi. La ripresa si apre con gli aquilani in avanti. Al settimo Minincleri mette in mezzo il pallone e arriva Dictevicius. La conclusione a botta sicura è la sfera che sfiora il palo. Passano due minuti e Ranelli ci prova dal limite ma Lewandowski non si fa sorprendere. Al dodicesimo Tortora prende il primo accorgimento inserendo un altro attaccante Marolda in luogo di Lopinto e trasformando il modulo in una sorta di 4-2-4. E al diciassettesimo proprio Marolda prova a servire Padovani anticipato però da un ottimo Pupeschi. Al diciottesimo ancora Leto prova dalla distanza ma Farroni si salva smanacciando in corner. Sul fronte opposto Minincleri calcia di poco oltre la traversa. La manovra dell'Avezzano non riesce a produrre occasioni tali da impensierire Farroni che al ventiquattresimo disinnesca la conclusione di Deramo. Al trentunesimo l'Aquila sfiora il raddoppio in contropiede con il neoentrato Peluso. L'attaccante oggi al rientro dopo il periodo di stop impegna Lewandowski al termine di una discesa. La respinta termina ancora sui piedi di Dictevicius che questa volta però spedisce alto. E' il preludio al 2-0 Aquilano che arriva al quarantesimo e porta proprio la firma di Peluso che infila Besana e deposita il diagonale chirurgico all'angolino lontano dove Lewandowski non può arrivare suggellando il rientro con la gioia del gol. Passano due minuti e l'Aquila potrebbe portarsi addirittura sul 3-0 ma Lewandowski è superlativo su Noman evitando all'Avezzano un passivo ancora più pesante. Dopo tre minuti di recupero può così iniziare la festa dei giocatori rosso-blu che ringraziano ed esultano sotto il settore dove sono assiepati i circa 150 tifosi giunti dall'Aquila che conserva il piazzamento play-off. Speranza play-off a cui invece deve dire addio l'Avezzano e pesanti sono le parole pronunciate nel post-gara in un botta in risposta al veleno tra il presidente Paris e il tecnico Tortora. Parole che vi abbiamo proposto ieri sera nel corso della trasmissione di Jacopo Forcella alle 19.30 all'Abruzzo del pallone con le tonate così le possiamo definire di Paris all'indirizzo del direttore sportivo De Angelis che è stato esonerato e anche del tecnico Pino Tortora che però resiste e non si dimette almeno fino a questo momento non sono arrivate le dimissioni del tecnico che ha detto che l'obiettivo era la salvezza salvezza che è stata centrata dalla formazione bianco-verde. Parliamo ancora di Serie D. Vastese, mal di gol, fallisce l'assalto alla zona play-off. La San Maurese quinta mantiene 5 punti di vantaggio e dunque andiamo a vedere cosa è successo allo stadio Aragona in questo pareggio tra la formazione aragonese e la San Maurese. Aragona ancora a Varo con la Vastese che non va oltre lo 0-0 casalingo contro la San Maurese forse l'ultima chance per pensare all'aggancio alla zona play-off dopo aver perso per strada troppe occasioni, partita dalle scarse emozioni, spesso insipida. All'occa i Galizia squalificati insieme all'infortunato romano, mister Favo conferma in blocco l'undici vittorioso a Iesi, compreso Marco Nato tra i pali. Primo tempo che scorre via senza sussulti, squadre corte che si fronteggiano soprattutto a centrocampo. All'ottavo ci prova la San Maurese con una girata in area di Pieri che finisce alta sopra la traversa. I biancorossi faticano ad innescare gli attaccanti e non è un caso che il pericolo arriva per indecisione ospite. Al trentasiesimo la retroguardia romagnola, pasticcia con Passaniti che scivola, palla di poco a lato. Tutto qui il primo tempo, ripresa non decolla. Diciassettesimo para Marco Nato su conclusione di Enrico. Al ventisettesimo alto sopra la traversa, ancora Enrico il protagonista. Al trentottesimo e Prisco che di testa colpisce ma trova Passaniti pronto alla risposta. L'occasione buona capita sui piedi di Colitto allo scadere ma ancora una volta la domenica è scritta. Tutto qui 0-0, occasione persa, l'ennesima. Playoff sempre lontani. In piena zona playoff invece il San Nicolò che mette nel mirino il secondo posto. I biancazzurri battono per 4-1 la Iesina. Biancazzurri guidati da Massimo Epifani, ieri sera ospite nei nostri studi. Allora andiamo a vedere com'è andata al Bonolis nel servizio di Ania Cantagalli. Ottavo risultato utile consecutivo per il San Nicolò che batte la Iesina 4-1, allunga la striscia positiva e si proietta sempre più verso il miglior piazzamento in ottica playoff. La Iesina, bisognosa di punti dopo due sconfitte consecutive, parte con un buon piglio. Uno dei due ex della gara, Censori, impegna il dodicesimo direttamente da calcio d'angolo Ciotti, bravo a smanacciare sul fondo. Dagli sviluppi del successivo corner, Bontà mette fuori di testa da due passi. Il San Nicolò reagisce. Traini, altro ex della partita, si veste da rifinitore, lascia Petronio in aria che mette un pallone sul secondo palo sul quale Di Benedetto, in scivolata, non arriva di un soffio. L'episodio a favore per i padroni di casa arriva qualche minuto dopo con protagonista ancora Di Benedetto che viene atterrato in aria in maniera fallosa secondo il direttore di gara. A trasformare il successivo calcio di rigore ci pensa Bisegna che porta in vantaggio il San Nicolò. La Chisina accusa il colpo, mentre i padroni di casa non trovano la via del raddoppio in più di un'occasione. Bisegna serve al bacio Di Benedetto, ma l'esterno lascia partire un tiro centrale che Tavoni riesce a bloccare. Due minuti dopo Traini prova la girata rapida di destro, ma la Briola ci mette una pezza. La prima frazione si chiude con un'occasione per Massetti, che dagli sviluppi di un calcio di punizione spara alto sulla traversa. La ripresa inizia come meglio non si potrebbe per la squadra di Epifani. Basta infatti attendere quattro minuti per vedere il San Nicolò sviluppare una bella azione dalla sinistra che porta Traini in girata a siglare la sua nona rete stagionale. La Chisina esce praticamente dal campo, mentre i biancazzurri controllano la gara fino a mandare i titoli di coda quando ancora Traini firma la doppietta di giornata servito dalla destra da Massetti. Per la scuola di Epifani c'è poi solo da attendere il triplice fischio, tra qualche ripartenza sprecata ed una pressione praticamente innocua degli ospiti. Prima della fine c'è gloria anche per Bosi, che con un destro a giro firma il poker biancazzurri. La rete di Trudo a pochi istanti dal termine è buona solo per l'attaccante per siglare l'ottava rete stagionale. Per il San Nicolò, domenica prossima, è in programma la difficile trasferta in casa dell'Agnonese. E' andata bene anche al Pineto, Pineto che sbanca, lo vedete dal titolo del centro, Civitanova Marche. La salvezza è un passo 3-0 per la formazione di Amaolo contro i marchigiani che nell'undici è sceso in campo, erano imbottiti di Juniores. Vediamo dunque come è andata in terra marchigiana. Il Pineto si avvicina a grandi passi alla salvezza. Pochi punti separano la squadra di Daniela Amaolo dal lago moniato traguardo. Al polisportivo di Civitanova Marche l'opportunità era particolarmente ghiotta e il Pineto non se l'è fatta scappare. Di contro c'era infatti una Civitanovese, ultima della classe e debilitata da pesanti problemi societari che hanno portato una decina di giocatori ad abbandonare nel corso dell'ultima settimana la squadra. Così per allestire l'undici da mettere in campo il tecnico Scoponi, da due domeniche in carica al posto di Cevoli, ha dovuto attingere piene mani dalla Juniores. In distinta solo Under. Amaolo è privo dello squalificato cacciatore e conferma quasi per intero l'undici che ha battuto il San Marino. L'unica novità è la maglia da titolare per il match winner di sette giorni prima, Ganci, preferito a Palumbo. Nonostante la crisi societaria, la tifoseria organizzata di casa non fa mancare il sostegno ai giovani della Civitanovese, ma il divario in campo è evidente. Al quattordicesimo serve tutta la bravura dell'estremo marchigiano busato per neutralizzare i tentativi a raffica di Cerceruti prima e Pisani poi. E il preludio al vantaggio del Pineto che arriva al ventesimo, Proietti mette dentro e Domenella nel tentativo di anticipare Esposito di testa gonfia la propria porta. Il Pineto continua a menare le danze, anche se dopo la mezz'ora a Catullo di forza va a prendersi un palone che ricapita a Marengo, il quale non riesce a finalizzare. Al trentasesimo però il Pineto mette in ghiaccio la partita con la punizione di Massimo Ganci che evidentemente ha il destro caldissimo e dopo la prudezza da tre punti col San Marino concede il bis anche al polisportivo. Zero a due ed è il risultato con cui si va all'intervallo. Nella ripresa ancora è solo Pineto, al quarto il solito Cercelluti, molto intraprendente, impegna severamente busato. Il terzo gol arriva e bisogna attendere il venticinquesimo della seconda frazione, la firma è quella di Roberto Stacchiotti, difensore col vizio del gol al quinto centro stagionale suolo stacco vincente sulla punizione calciata da Ganci. Dopo due minuti palla gola anche per Esposito che va vicino alla quarta marcatura pinetese ma il risultato non cambierà fino alla fine. Il Pineto passa 3 a 0 e salvezza dunque quasi al sicuro per la squadra del presidente Brocco che ha guadagnato punti su tutta la zona pericolosa mettendola a distanza di sicurezza. Pineto che ha ancora il tono di riposo da osservare e quindi solo quattro partite da giocare come Castelfidardo, Jesina e Alfonsine. Questo è il servizio sulla vittoria del Pineto a Civitano a Marche curato da Andrea Costantini. Siamo alla pagina relativa all'eccellenza, vediamo i risultati della giornata di ieri. Acquessapone, Paterno 1 a 1, Albadriatica, Capistrello 2 a 1, Miternina, Angolana 2 a 1, Cupello, Miglianico 3 a 3, Francavilla, Martinsicuro 0 a 0, dunque la capolista frena a Francavilla al mare, Morodoro, Riverchieti 2 a 0, Nero Stellati, Virtus Teramo 2 a 1 e dunque Nero Stellati che raggiunge la formazione Teramana in testa alla classifica. Poi Penne, Montorio 2 a 0, San Buceto, San Salvo 3 a 1. In classifica lo vedete da questa grafica. Nero Stellati e Martinsicuro 62 punti, poi Paterno 58, Albadriatica 57. Questo per quanto riguarda l'eccellenza. Andiamo a vedere anche la promozione, Real Giulianova prolunga la festa. Dopo la matematica promozione di domenica scorsa, i giallorossi hanno superato il Colonia con il risultato di 2 a 0 e il Chieti spreca tutto da 0 a 2 a 2 a 2, rigore fallito da Lalli. Chieti dunque che pareggia per 2 a 2 a Fossacesia, i neroverdi recriminano per aver gettato alle ortiche la vittoria nella ripresa. Il Fossacesia riesce a rimontare due reti e chiude la partita in 10 uomini. Andiamo ancora avanti, lasciamo il calcio per parlare di basket, perché non è stata sicuramente positiva la giornata di ieri per le due formazioni abruzzesi. Chieti si perde, salvezza più lontana. I biancorossi, i teatini, sono stati battuti in casa al Palatricale per 83 a 79. Dal Verona il coach Bartocci al termine ha detto, manchiamo nei momenti decisivi. Non è andata meglio a Roseto che parte male e fallisce la rimonta a Iesi. a Iesi, formazione marchigiana che si è imposta per 87 a 79. Di Paolo Antonio, coach Rosettano dice, non c'era più energia. Siamo alla Serie B, avevamo visto già prima dalle pagine del Messaggero le vittorie del Pescara. Vittoria da Brividi per 68 a 60 in casa del Val di Ceppo Perugia. Finale emozionante per il Campli che torna al successo 81 a 70 con Sansevero. Ortona troppi sbagli, formazione battuta per 78 a 66 a Senigallia. Perde anche di un punto Capo Amaro per il Giulianova battuto 70 a 69 a Venafro. E invece il Teramo che batte il Madaloni per 81 a 66. Teramo playoff nel Mirino. Andiamo ancora avanti per arrivare alla pagina che riguarda il rugby. L'Aquila Benevento centra subito il riscatto. Parliamo della Serie A, pulpromozione, prestazione di carattere dei Neroverdi. Coach Rotiglio, vittoria sofferta, dice il tecnico Aquilano. Abbiamo rosicchiato un punto al capolista. E poi Pesaro che si conferma un campo tabù invece per la Gran Sasso. Battuta per 18 a 11 dal 15 Marchigiano. In basso la vela per chiudere con Nuccorini che si aggiudica il Challenge di Pescara. Alla Marina di Pescara 3, il Vastese Palisi terzo. Scusate il Vastese Palisi. Ieri niente regate per mancanza di vento. Vedete nella foto la premiazione con Davide Nuccorini che alza il trofeo del Challenge di Pescara. Oltre 300 imparcazioni arrivate da tutta Italia per partecipare a questa manifestazione che si è tenuta al Marina di Pescara. Con la vela siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi. Il primo della settimana con la nostra consueta rassegna stampa. Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 7. Invece io vi rimando all'appuntamento con la prima edizione del nostro telegiornale alle ore 14. Grazie a Gianni D'Areo e Regia. Grazie a voi per averci seguito dalla nostra redazione. L'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.